Una volta recuperate le pupe, le inserisco all'interno di un fauna box appositamente preparato. Le pupe appena formate hanno un colore tendenzialmente verde e a man mano che maturano prendono un colore sempre più scuro, finché vicino al giorno della schiusa diventeranno quasi nere. Le pupe di Macroglossum stellatarum sono molto attive quando vengono manipolate. Una pupa nera che non si muove potrebbe essere morta. Potete guardare il mio video come riconoscere una pupa morta nel mio canale di Youtube. Importante, non lasciare mai le crisalidi alla luce diretta del sole, perché le cucinate? Le crisalidi vanno tenute all'ombra o al buio, comunque, mai al sole. Quando nell'occhio della crisalide sarà visibile una specie di pupilla, vuol dire che si schiuderà in meno di un'ora. La cosa di vitale importanza quando si schiudono le pupe di Lepidottero è questa. L'immagine deve assolutamente appendersi in una parete verticale per poter aprire le ali, per cui vietato usare barattoli con i bordi lisci. L'insetto deve assolutamente arrampicarsi sulle pareti. Se non riesce ad arrampicarsi, non aprirà mai le ali, verranno deformi e non volerà mai. C'è un tempo molto limitato in cui l'insetto deve distendere le ali e se non riesce a trovare una parete verticale su cui appendersi, le sue ali si induriranno nella posizione sbagliata e sarà la condanna a morte della farfalla. Come potete vedere nel mio box ricoperto con una rete, gli insetti sono in grado di arrampicarsi e appendersi sul tappo. Ecco come allestisco il box per far schiudere le crisalidi. Prendo un fauna box, lo ricopro completamente con una rete zanzariera, ma va bene anche un lenzuolo di cotone. Uso una sagoma di cartone per tenere la rete aderente alle pareti il più possibile. Ricopro il fondo con un po' di trucciolato e fermo la rete esternamente con un pezzo di fel di ferro. Chiudo il box e questo è pronto per accogliere le crisalidi in schiusa. In alternativa si può far schiudere le crisalidi in contenitori singoli. Basta utilizzare un contenitore un po' alto, ricoprirlo di carta assorbente in modo tale che la farfalla possa arrampicarsi, mettere sul fondo un po' di trucciolato con la crisalide, fissarlo con del nastro adesivo e solo esternamente in modo tale che la farfalla non rischi di appiccicarsi sul nastro adesivo una volta schiusa e ricoprirlo con una rete sottile, fissandolo poi con un elastico. In questo modo si possono far schiudere le crisalidi singolarmente. Questo contenitore può essere usato anche per inserire proprio le prepupe una alla volta senza poi mai disturbarle fino alla loro schiusa. Una volta che la sfinge è uscita dalla crisalide ci vorrà qualche ora prima che sia pronta per volare. Lasciatela tranquilla e non disturbatela. Il macroglossum stellatarum non può essere allevato in cattività per cui una volta schiusi lasciateli in libertà perché moriranno se cercate di tenerli al chiuso. A meno che non abbiate una serra di 8 metri per 8, allora se ne può anche riparlare.